bello a tutti ragazzi qui è Patrick Gamer e bentornati in un nuovo fantastico video oggi siamo su minecraft giocheremo il vanilla qui con noi c'è anche Alex01 saluta ciao non mi chiamo Alex01 mi chiamo Simon06 sono sempre qui ho fatto anche altri video un pacchetto di comportamenti o di risorse io gli faccio tacci allora siamo capitati su un'isola su queste isole qui va bene costruisci qua ora vi lascio nella mano di Simon dovremmo fare una sedia veramente fighissima allora prendete il materiale di cui volete farla a me piace un sacco in legno un sacco in legno anzi un attimo prendiamo degli scalini ok poi prendiamo un qualsiasi blocco delle rotaie poi un carrello e anche dei pistoni con un blocco di redstone per attivarli intanto mettiamo due blocchi così ok adesso mettiamo una rotaia qui anzi in realtà dobbiamo mettere le due mettiamo un vagonetto qui e cerchiamo spingerlo al centro poi se non ce la facciamo ovviamente togliamo questa rotaia comunque ragazzi oggi è il mio compleanno quindi fate gli auguri allora lo spostiamo al centro ok e togliamo tutte le rotaie zitto mandatemi sui messaggi tanti auguri Patrick i commenti più caldo oh ecco senti quando lo mettete al centro togliete tutte le rotaie spacchi ok un attimo aspetta che lo sposto un altro po' al centro ok ok adesso mettiamo due scalini in questo modo oddio poi allora Simon se vuoi volare te lo dico io come fa ma lo so come si vola non mi sembra ok lo sapevo mettiamo due pistoni magari nulla tutti verso questa forma strana che sembra un ciclope no e li attiviamo tutti e due ok adesso spacchiamo il tutto e verrà questo ovviamente poi voi lo potete abbellire come volete potete farla più grande più piccola come volete ma il bello sarà che su questa sedia ci si può sedere ragazzi si guardate qui noi possiamo andarci vicino magari senza spostarlo allora ragazzi se vi succede questo possiamo salire allora il video finisce il video finisce qua come al solito commentate se volete altri video di questo genere se Simone stesse smettendo di fare così vi mangerò tutti dammi il video finisce qui buona ragazzi out era solo un tutorial eh quindi per questo dura poco out ciao 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 Grazie a tutti.